La Polizia di Stato nell'ambito di mirati controlli volti al contrasto dell'inquinamento ambientale della manodopera impiegata in nero nel comparto agricolo ha proceduto al sequestro preventivo d'iniziativa di un'area pari a mille metri quadrati di terreno dove erano ammassati rifiuti pericolosi e speciali. I poliziotti del commissariato di Modica, su specifica disposizione del dirigente ed in aderenza alle direttive emanate a livello provinciale dalla questura di Ragusa, hanno passato in rassegna diverse produzioni serricole del territorio ciclitano ed in particolare presso una grande azienda hanno riscontrato l'illecita gestione dei rifiuti nonché la presenza di due lavoratori in nero, ossia non regolarmente ingaggiati dal datore di lavoro. In un terreno adiacente le coltivazioni in serra sono stati rinvenuti due autoveicoli in disuso, batterie per autotrazione esauste, componenti in ethernet, sanitari dismessi, materiali di risulta e plastiche di vario tipo, prevalentemente legate alle lavorazioni agricole nonché residui organici delle coltivazioni stesse. Il sito in questione era privo delle previste autorizzazioni per la raccolta nonché il trattamento di determinate tipologie di rifiuti ed inoltre non venivano esibiti dall'interessato i formulari per il corretto smaltimento degli stessi tramite ditte specializzate come da normativa di tutela ambientale. L'area, circa mille metri quadrati, di proprietà dell'imprenditore agricolo, pertanto è stata posta sotto sequestro preventivo al fine di interrompere e non aggravare le conseguenze del reato di raccolta illecita di rifiuti pericolosi e speciali e consentire le dovute opere di bonifica, mentre l'uomo è stato deferito al Stato di Libertà alla Procura della Repubblica per illecita raccolta di rifiuti. Sul versante dei controlli alla manodopera è impiegata due stranieri nordafricani, sui dodici tutti stranieri presenti all'atto della verifica, sebbene in regola sul territorio nazionale, non risultavano ingaggiati. Pertanto la posizione giuridica del datore di lavoro è stata segnalata all'ispettorato per gli aspetti sanzionatori previsti dalla normativa di settori in termini di multa.